A Sant'Agata dei Goti le difficoltà di una parte dei residenti del centro storico a rispettare i giorni e gli orari di conferimento dei rifiuti causano problemi di salubrità e di igiene dei luoghi nei quali sono posizionati i cassonetti, arrecando danni economici e di immagine del comune Sennita, è quanto emerso nell'ambito della conferenza dei servizi convocata d'urgenza a Palazzo San Francesco. A prendervi parte, tra gli altri, il sindaco di Sant'Agata dei Goti, Carmine Valentino, l'assessore al centro storico e attività produttive Razzano, il consigliere delegato alle politiche ambientali Iannotta, il direttore generale dell'ente Jaco Bellis. Dunque, proprio per garantire il rispetto del calendario per la raccolta differenziata dei rifiuti, la conferenza dei servizi ha stabilito un incremento dei controlli da parte della Polizia Municipale, che ha disposto la sorveglianza del centro storico e delle zone di conferimento per l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di rifiuti. Attività quest'ultima gioenne a essere con la contestazione di infrazioni già accertate e con altre in via di definizione. Inoltre, secondo quanto reso noto dall'assessore al centro storico e attività produttive Razzano, è stata avviata nei giorni scorsi una fase di incontri per una approfondita analisi delle problematiche, iniziando dalle categorie di esercenti con particolari necessità di conferimento per i quantitativi di rifiuti prodotti, soprattutto durante il weekend.